Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale la dedichiamo all'approvazione della legge di stabilità 2016 della regione Sicilia. Sono previsti numerosi interventi che avranno dei risvolti positivi anche per il territorio di Gela. Il Partito Democratico ribadisce che la finanziaria approvata darà ossigeno immediato. La legge di stabilità 2016 della regione Sicilia prevede numerosi interventi che avranno dei risvolti positivi anche per il territorio di Gela. Lo dice il Partito Democratico e il deputato regionale, il giudese Giuseppe Arancio, è convinto che la finanziaria approvata darà ossigeno immediato. Ci sono 100 milioni per tutta l'isola per le persone in difficoltà con il sistema dei cantieri di servizio, quindi immediatamente nei prossimi mesi saranno avvisati i comuni di fare i progetti. Poi abbiamo risolto il problema che riguarda i consorsi di bonifica sui canoni. Sono stati messi 3 milioni di euro per i consorsi di bonifica e i canoni si pagheranno con la modalità del 2015, quindi è scongiurato l'aumento. Poi un'altra refluenza l'avranno tutti i leader del nostro litorale perché non avranno la necessità di chiudere durante l'anno, possono aprire tutto l'anno perché noi abbiamo un clima su 12 mesi, 8-9 mesi buoni. Quindi ingreventiamo la possibilità del turismo sia esterno che quell'interno, quindi delle microattività, delle microeconomie che si mettono in moto perché continueranno a svolgere attività di ristorazione, di bar. Quindi ci sono persone che lavoreranno tutto l'anno. Poi per gli RMI, per gli RMI c'è una cosa importantissima, il fatto che la fuoriuscita, che in molti sono che l'hanno richiesta, la regione farà una convenzione con una banca, quindi i soldi li anticiperà la banca e tutti quelli che hanno fatto domanda potranno fuoriuscire facilmente. Ecotassa e zona traffico limitato. Il capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta. Il PD Enzo Cirignotta associerà tutte quelle iniziative all'interno del Consiglio Comunale affinché il Comune di Gera si doti di un nuovo piano di interventi nell'ambito dei rifiuti che vada ad incrementare e sostenere la raccorta differenziata, che differenzia e risparmia, che non differenzia e ormai paga l'ecotassa. Tutti i Comuni si dovranno dotare ora di un regolamento apposito che vada a disciplinare le zone a traffico limitato. E' un punto importante che vorrei comunicare alla città, anche perché in passato non arriva l'arancio sul mio suggerimento, ha presentato un disegno di legge apposito. E' quello che la nomina del revisore dei conti negli enti locali, d'ora in poi, avverrà medante sorteggio all'interno dei Consigli Comunale. Non più ci sarà una nomina politica, come è venuto fino ad ora. Il PD di Gera, presieduto da Claudia Caizza, ha un obiettivo, intervenire soprattutto sulle fasce deboli. Il segretario cittadino Peppe Di Cristina. Anche in una situazione complessa, come era questa finanziaria, anche in una questione di difficoltà oggettiva, non bisogna dimenticare i più deboli. E aggiungo, fra poco noi presenteremo un documento fuori dalla finanziaria in cui cominceremo a pensare anche a quelli che in questa città soffrono e magari non votano. Penso per esempio ai ragazzi che non vanno a scuola, visto che apprendiamo che c'è una dispersione scolastica altissima. Penso a coloro i quali il lavoro non ce l'hanno e penso a quelli che vivono una difficoltà oggettiva, perché la nostra è un'identità di sinistra, un'identità che non vogliamo abbandonare, anzi rafforzare. Non ce l'ha fatta Nuccio Iraci. Il sedicenne gelese è rimasto gravemente ustionato in diverse parti del corpo, mentre lo scorso 13 febbraio maneggiava un bracere. Il ragazzo aveva riportato gravissime scottature sull'80% del corpo. I sanitari del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele si erano riservati la soprognosi di guarigione, ancora prima di ordinarne il trasferimento verso il più attrezzato centro Grandi Ustioni dell'ospedale di Palermo. Era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici di ricostruzione della pelle a causa delle eccessive infezioni. Nelle ultime 48 ore però le condizioni di salute del sedicenne si sono aggravate. Era stato nuovamente intubato, ma già la scorsa notte i medici non avevano lasciato speranze ai familiari. Il suo cuore ha cessato di battere, gettando nello sconforto i familiari e l'intera comunità. Nuccio Iraci aveva un fratello gemello. Sono tre gli arresti eseguiti nelle ultime ore dalla Polizia Gela, domiciliari per il 38enne Fabio Smorta, che deve scontare 8 mesi e 15 giorni per guida senza patente, e per il 60enne Orazio Antonuccio colpevole di guida in stato di ebrezza. L'uomo deve scontare 6 mesi. Finisce in carcere, invece, Giuseppe Rinella, che deve scontare 8 mesi per evasione dai domiciliari. Sempre la Polizia ha denunciato un 18enne accusato di furto e simulazione di reato, ed un 21enne scoperto con sedosi di hashish. Altra interessante puntata, quella andata in onda ieri sera di Agora, il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico della nostra redazione, si è occupato di sanità e soprattutto del rapporto tra chi ha gestito e gestisce la sanità a livello provinciale e questo territorio. Un rapporto da sempre sbilanciato a favore del capoluogo con la città più grande dell'intero ambito provinciale, trattata come l'ultima ruota del carro oppure come la periferia più dimenticata dell'impero. Un rapporto squilibrato che ha portato alcuni movimenti cittadini nati dal basso a coniare l'amaro slogan «Gela fornisce ai malati» e «Caltanissetta ai servizi sanitari». Uno slogan che in trasmissione ieri sera ha provato a smontare il nuovo direttore generale dell'Asp provinciale, Carmelo Iacono, il manager dell'azienda sanitaria dell'ex provincia di Caltanissetta, ospite di Agora, ha portato i numeri del nuovo piano ospedaliero che punta al rilancio del nosocomio gelese del Vittorio Emanuele. Dati e numeri che però al momento stridono con i fatti reali e con i servizi offerti dal presidio ospedaliero di Via Palazzi. D'altronde, lo stesso direttore generale Iacono, dai microfoni di Agora, ha confermato alcune gravissime criticità che sono tuttora presenti al Vittorio Emanuele, una tra tutte, l'impianto di climatizzazione non funzionante da oltre dieci anni e che rappresenta una vera vergogna. Ma non è certo il solo problema che attanaglia la struttura sanitaria gelese. Affare da contraltare ai programmi ambiziosi voluti dal nuovo manager della sanità provinciale, l'elenco infinito di problemi snocciolato da un componente del governo cittadino, nella fattispecie l'assessore dell'Aggiunta messinese Francesco Salinitro. Ad arricchire di presenze e contenuti il salotto televisivo di Agora, anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, nonché presidente della Commissione Consiliare all'Ambiente e alla Sanità, Virginia Farruggia, e poi la portavoce del Comitato Gelenzi Spopulus, Liliana Bellardita, ed ancora il neosegretario cittadino dell'Udc Salvatore Incardona e per finire il deputato regionale del PD, il gelese onorevole Giuseppe Arancio. Non è poi mancata la sferzante scheda di Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro che ha chiamato in causa ancora una volta la scarsa incisività di un governo regionale retto da un gelese e che finora non ha prodotto per questa città i frutti sperati, anzi. Chi volesse rivedere questa puntata di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera su Canale 10, a partire dalle ore 21, oppure sui nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo, in prima serata, con ospiti ed argomenti che come sempre riguardano Gela ed i gelesi. Forza e coraggio vi sono vicino. Papa Francesco ha salutato così a conclusione di un breve colloquio padre Giovanni Tandurella e di consiglieri comunali Luigi Di Dio e Salvatore Scerra. Sia il parroco che i due esponenti del consiglio comunale hanno partecipato all'udienza speciale, riuscendo ad interloquire, seppur brevemente, con il pontefice. Durante il colloquio la delegazione gelese ha rilanciato le enormi difficoltà che sta vivendo la città. La visita a Papa Francesco era finalizzata proprio a chiedere sostegno all'avvertenza in atto sul fronte Eni. Il Papa si è detto vicino agli operai e alla cittadinanza. Un protocollo d'intesa volto ad assicurare la conciliazione della vita familiare e l'esercizio della professione forense è stato siglato tra il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Gela, preseduto da Angelo Ricata, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, preseduto da Ignazio Emmolo, il Tribunale di Gela, preseduto da Paolo Fiore, la Procura della Repubblica, diretta da Lucia Lotti, il Dirigente Amministrativo del Tribunale Cultraro, il Dirigente della Procura Giovanna Ficarra, la coordinatrice dell'Ufficio del Giudice di Pace, Mariolina Alario, ed il Dirigente Unep, Sergio Cozzo. Con il protocollo stilato dall'Avvocato Patrizia Comandatore è stato riconosciuto il diritto ad ottenere il rinvio per legittimo impedimento delle udienze penali e civili nei ultimi due mesi di gravidanza e nei primi tre mesi di maternità. Ed inoltre la possibilità di ottenere il rinvio dell'udienza anche in caso di patologia di prole fino al terzo anno di età. Anche l'organizzazione delle udienze e l'accesso all'Ufficio Unep e alle cancellerie darà la priorità alle donne in gravidanza e alla qualità di genitore. E adesso parliamo del progetto promosso da Archivani Seaglabe di Gela e dal Comune. È prevista la possibilità di ricevere gratuitamente cure specialistiche odontoiatriche rivolte a giovani appartenenti a famiglie indigenti del territorio. Vediamo. Dona un sorriso. È il progetto che vede coinvolti il Chivani Seaglabe Gela e i servizi sociali del Comune presentato oggi. È prevista la possibilità di ricevere gratuitamente cure specialistiche odontoiatriche rivolte ai giovani appartenenti a famiglie indigenti del territorio. Sarà effettuato uno screening odontoiatrico per la cura e la prevenzione della carie dentale rivolto a ragazzi che frequentano vari istituti scolastici dal territorio. Faremo uno screening da tutti i ragazzi ma soprattutto per dare a ragazzi appartenenti a famiglie indigenti le strette e necessarie cure odontoiatriche e ortodontiche che è il caso quando necessita. Questo li daremo a scopo completamente gratuito grazie alla collaborazione di alcuni colleghi odontoiatri che hanno aderito, che hanno sposato appieno il progetto e grazie anche alla collaborazione del Comune di Gela che l'amministrazione comunale è stata sempre pronta a rispondere alle nostre esigenze. Questo è un esempio come poter dare delle risposte grazie alla collaborazione dei cittadini. Essere cittadino attivo non vuol dire solo e esclusivamente portare avanti dei problemi ma portare delle soluzioni e portare delle soluzioni concrete come quelle che ha presentato il Kivanest. L'amministrazione non poteva che non essere vicino al Kivanest perché questi tipi di attività oltre che a rivolgersi a una fascia di popolazione che oggettivamente si può trovare in difficoltà in realtà fa vedere lo spirito di aggregazione di una comunità. Credo che abbia una grande rilevanza sociale un'attività molto meritoria. L'assessore ai servizi sociali Licia Abela Noi daremo la massima collaborazione nell'individuazione dei soggetti che possono essere portatori di interessi nei confronti di questa iniziativa e quindi ringraziamo loro e ci proponiamo di diventare il tramite giusto tra chi ha bisogno e chi pone la propria generosità a servizio di una città. Parla della Sicilia dal punto di vista femminile è il film documentario Cose di donne che sarà proiettato al Cineteatro Antidoto il 18 marzo alle 21. Se storie di donne che hanno in comune l'essere nate in una terra femmina per eccellenza con i suoi miti, le sue leggende che si sono avvicendate e sovrapposte nel tempo. Il documentario è di Lorenzo Daniele che ha vinto il premio Archeoblogger alla 26esima rassegna internazionale del cinema archeologico di Rovereto e tra le donne protagoniste c'è l'archeologa gelese Angela Catania presidente dell'Archeoclub Giovani. Il film è stato girato in 50 giorni tra il gennaio 2013 e il maggio 2015. L'appuntamento è quindi per il 18 marzo al Cineteatro Antidoto di Macchitella dove dalle 21 è possibile assistere alla proiezione del film. L'iniziativa è stata promossa dalla sezione Giovani dell'Archeoclub d'Italia a sede di Gela. È stata fondamentale la collaborazione con il Museo archeologico regionale. L'ingresso il 18 marzo prossimo è gratuito fino ad estaurimento posti. Si chiama Michele Bottaro studia Ingegneria Elettronica all'Università di Catania e l'anno scorso è stato l'unico studente ad avere conseguito il diploma con 100 e lode all'Istituto Tecnico Industriale Morselli di Gela. La scuola, diretta da Ina Ciotta, ieri l'ho premiato nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato gli studenti che a giugno inizieranno gli esami per conseguire il titolo di perito. Erano presenti anche i genitori di Bottaro. Io in questi giorni che la Presidente ha comunicato l'organizzazione di questa giornata ho pensato innanzitutto a questi cinque anni come li ho vissuti. Diciamo che sono stato molto gratificato da questa organizzazione, da questo premio poiché io non ho vissuto questi cinque anni come uno sforzo, come una passione perché sin da piccolo era questa di qua la mia orientazione. Quindi è stata una gratificazione immane. Dopo cinque anni di coltivare una passione poi averla pure gratificata. E 100 e lode a chi lo dedichiamo? Innanzitutto ai miei genitori che mi hanno sostenuto durante gli esami mi compativano per gli stati d'animo alla mia ragazza perché anche lei è stata molto d'aiuto e di sostegno ai professori perché grazie a loro io posso godere delle conoscenze che ho acquisito e sviluppato alla scuola che ha messo a disposizione i laboratori e le attrezzature che sono validissime e sono anche invidiate da molte aziende quindi in questi qua sono i ringrazioni particolari che voglio fare. Sono molto contenta in realtà ho avuto occasione di conoscere questo ragazzo nel corso di un progetto di robotica che la scuola sta portando avanti. Lui già aveva esperienza perché ha partecipato l'anno scorso alla gara di robotica che si svolge a Catania. Poi voglio dire se Michele è arrivato a questo punto sicuramente è merito delle sue abilità della sua buona volontà del suo impegno però mi permetto di dire che sicuramente il contributo che è stato dato dagli agenti e dalla scuola ha fatto anche insomma è stato importante. In edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro si torna a parlare di Agroverde ed è la prima volta da quando è in carica la giunta messinese nulla di importante ma la semplice richiesta da parte del sindaco al presidente della cooperativa agricola italiana i due confermano ma non forniscono altri particolari rilevanti e questa è l'apertura della prima pagina del giornale il servizio è di Nello Lombardo Filippo Guzzardi fa la radiografia del PD Gelese diviso in tre tronconi nel giorno in cui i Renziani si riuniscono a Caltanissetta con il sottosegretario Faraone nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto Giulio Cordaro riprende la questione legata alla legge di riforma dell'ex provincia e mette a nudo le difficoltà in cui si trova la politica siciliana nell'affrontare l'inghippo delle tre città tra cui Gela che hanno chiesto con referendum di cambiare provincia all'interno del giornale altri articoli ai servizi di attualità e cultura firma di Franco Lauria Lucrezia Ferro Gandolfo Cascio Leo Todaro e Cinzia Sciagura Nello Sport i commenti di Orazio Accomando sui campionati di calcio di eccellenza e di promozione la pagina dei piccoli annunci economici chiude come di consueto il giornale da oggi in edicola ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità siamo ritornati seconda parte del telegiornale il Sroptimist Club la Fidapa e l'Inner Will l'8 marzo prossimo in occasione della giornata internazionale della donna organizzano una serata al Cineteatro Antidoto in cui si svolgerà la rappresentazione stanotte dormo tranquilla di Giuliana Fraica il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza creare una rete sociale che permetta il benessere di ogni diversamente abile organizzandosi per affermare i diritti dei soggetti disabili ci sono ancora troppi problemi non risolti relativi alla disabilità vogliamo essere sindacato propositivo e non conflittuale che interagisce con il mondo del volontariato delle istituzioni del lavoro e per far conoscere le nostre idee di una società più solidale lo dice Natale Salucci segretario provinciale di sfida il sindacato famiglie italiane di diversabilità che oggi ha tenuto un incontro all'hotel Sileno noi abbiamo delle leggi diciamo all'avanguardia per quanto riguarda le leggi nazionali però queste non vengono applicate e neanche rispettate allora è importante che si crea un movimento trasversale di tutte le associazioni di tutte le persone e delle famiglie disabile e nonne perché è un è un concetto di civiltà quello di migliorare i servizi della nostra città anche perché la nostra città riscontra un numero di disabili numeroso rispetto a tutte le altre città però come servizi è ancora carente è importante che vengono attenzionate l'aspetto sanitario quindi la riabilitazione ci sono molte liste d'attesa e quindi un bambino non può aspettare tanto tempo quindi è importante la prevenzione e l'intervento precoce è importante la scuola è importante che a scuola non vengano perse ore per trasportare i ragazzi da un posto all'altro dalla riabilitazione o altri servizi è importante che i ragazzi vivano un tempo libero perché hanno diritto al gioco al cinema a divertirsi è importante che i ragazzi che poi diventano adulti hanno le possibilità di lavorare è importante un pieno inserimento nel tessuto sociale e qual è l'appello che lei lancia oggi all'amministrazione comunale? beh l'appello all'amministrazione comunale è quello di fare una vera rivoluzione politica e culturale soprattutto quello di ascoltare gli ultimi noi rappresentiamo sono gli ultimi ma gli ultimi hanno anche delle capacità delle abilità come nel nostro territorio abbiamo dimostrato in diversi modi e ci sono delle persone pronti a mettersi in gioco quindi vogliamo metterci in gioco anche assieme all'amministrazione comunale e anche quella regionale perché no? Continuano gli appuntamenti inseriti nell'ottantaduesima stagione concertistica giolese promossa dall'associazione Amici della musica Giuseppe Navarra domani alle 19 al Palazzo Pignatelli concerto del duo Antonella Callea al Flauto e Salvatore Gaio al Pianoforte e ora apriamo la pagina dello sport calcio primo di due impegni casalinghi per il Gera nel girone A del torneo di eccellenza domani i biancazzurri riceveranno alle 15 la visita della Libertas ultima in gradatoria noi ne abbiamo parlato con l'attaccante Maurizio Nassi Maurizio Nassi oramai non si può più sbagliare perché dopo il colpaccio conquistato a Mazzara domani arriva l'ultima in classifica e bisogna aumentare il vantaggio sulle dirette concorrenti la Serie Divi sta aspettando adesso tocca a voi assolutamente ormai mancano sei partite siamo riusciti a direi da Mussumeli a fare un grande un grande girone di ritorno abbiamo recuperato parecchi punti adesso dopo domenica a Mazzara vincendo a Mazzara siamo tre punti avanti rispetto alle altre quindi dobbiamo proseguire non ci possiamo nascondere però senza sottovalutare l'impegno di domani perché arriverà una squadra che non ha niente da perdere e sono le partite più complicate secondo me sulla carta un impegno facile però poi il campo che deve dire la propria purtroppo è sempre così noi abbiamo visto che con le squadre che vengono qui a salvarsi e a chiudersi facciamo un po' di fatica domani sarà una partita ripeto che loro non hanno niente da perdere noi non dobbiamo sottovalutare ma non l'abbiamo fatto in settimana lavorando bene dobbiamo conquistare i tre punti e poi vedere cosa fanno le altre domani come da adesso accade ogni volta giocate in casa sarà importante se non fondamentale l'apporto del pubblico che vi segue con particolare interesse anche in trasferta sì domenica a Mazzara c'erano tante persone di Gela questo significa che ci credono come ci crediamo noi spero che domani ci sia un po' di gente allo stadio per spingerci ad ottenere un risultato che credo tutti in città vogliono due partite consecutive in casa 6 punti all'orizzonte beh intanto pensiamo alla partita di domani che che non abbiamo vinto sulla carta noi dobbiamo vincere in campo domani ottenere i tre punti per continuare nel nostro cammino importante verso un obiettivo importante poi alla partita del campo franco ci penseremo tra martedì prossimo quanto ci credi in conclusione all'Asile Dio? ma io ci credo tantissimo come ci crede la squadra ma ci abbiamo sempre creduto anche quando forse gli altri non lo facevano perché questa è una squadra importante è una squadra che da dicembre o forse anche anche di più da mussumeli non perde più abbiamo fatto partite meno belle ma tante tante belle ci crediamo è un obiettivo importante che noi vogliamo raggiungere adesso mancano sei partite non ci possiamo nascondere è lì alla nostra portata e non possiamo sbagliare e nel campionato di promozione sfida in trasferta domani per l'altà di Gogela la squadra giallarossa adesso affidata alle cure del tecnico Antonello Capodicasa che ha preso il posto dell'esonerato Peppe Misiti giocherà a comiso contro una formazione che lotta per non retrocedere l'altradico Gela che ambisce ai playoff e reduce da due sconfitte di fila turno di riposo invece per il Macchitella la pagina dello spettacolo è fuocammare il film in programmazione al cineteatro antitolo di Macchitella a Gela sono tre i orari 17.30 19.30 e 21.30 e il 9 marzo alle 21.15 al teatro comunale Eschilo nell'ambito della stagione di Cabaret è previsto lo spettacolo Tram Tram di Lasciate Libero lo Scarrozzo per informazioni ci sono due numeri telefonici 0933 91 18 92 e 345 58 80 580 con la pagina dedicata allo spettacolo noi chiudiamo le informazioni di oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni ne approfittiamo per augurarvi un buon fine settimana a a a a a a Grazie per la visione!